Ben ritrovati a Passione Bianco-Rossa La trasmissione di Video 33 dedicata all'FC su Tirol Buonasera, buonasera a tutti voi e buonasera al nostro graditissimo ospite di oggi Il trequantista bianco-rosso Daniele Casiraghi Ciao Dani, benvenuto nei nostri studi Buonasera, buonasera a tutti Partiamo dalle ultime due partite Iniziamo da quella di ieri, dal recupero del secondo tempo a Legnago Il recupero della gara sospesa lo scorso 26 settembre Che tipo di gara è stata? Una gara anomala, tipica, con un approccio sicuramente diverso Sì, molto anomala perché è stato tutto ampliato I ritmi erano altissimi Perché loro comunque in 45 minuti non avevano nulla da perdere Dovevano recuperare la partita Quindi ci hanno attaccato subito forte Sono riusciti a trovare subito il gol Però siamo stati bravi a riprenderla subito Dal punto di vista mentale non è facile affrontare un solo secondo tempo? No, no, sapevamo che mentalmente non era facile Perché, come ripeto, loro non avevano nulla da perdere Quindi ci hanno attaccato subito Però siamo stati veramente bravi a riprenderla E poi a gestirla al meglio Da Legnago a Sesto San Giovanni Domenica scorsa al Breda Il successo per 1-0 Grazie al gol che tu hai segnato su calcio di rigore E alcune ghiotte occasioni mancate di poco E poi c'è stata da parte della Pro Sesto La massima punizione sbagliata da Capogna Che partita è stata? Allora, sapevamo che la Pro Sesto era una squadra organizzata Davanti hanno giocatori molto buoni Però l'abbiamo approcciata molto bene L'avevamo preparata bene in settimana E devo dire che i tre punti sono stati meritati Dani sta facendo notizia La difesa ermetica ha fatto notizia ai record di Poluzzi Eccetera eccetera Ma al di là dei numeri Possiamo dire che invece la prestazione collettiva In senso generale è quello che interessa di più? Sì, siamo contenti anche che si parli di questa cosa Perché comunque è bello quando parlano di te Però il gruppo che ripeto fa la differenza da noi Tutti uniti, ci difendiamo tutti insieme Dagli attaccanti a Jack, che è il portiere E quindi questo credo sia la nostra forza Messa a fuoco dell'obiettivo più che degli obiettivi Sì, 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 è quello Andiamo a vedere ora con l'ausilio della grafica I risultati della classifica e il prossimo turno Tredicesima giornata Al Minolefe Pro Vercelli 1-1 Per Gollettese Triestina 0-1 Pro Patria Fiorenzuola 0-1 Juventus André 23 Lec 1-0 Piacenza Renate 3-1 Pro Sesto Sutirol 0-1 Feral Pissalò Gianerminia 1-0 Legnago Serigno 1-2 Mantua Padova 1-1 Virtus Verona Trento 0-1 Nel recupero di ieri Legnago Sutirol 1-2 Per una classifica che vede in testa Il Sutirol a quota 33 Feral Pissalò e Padova 27 Renate 26 Pro Vercelli 20 Triestina 19 Al Minolefe Juventus André 23-18 Lecco 17 Piacenza 16 Saregno Trento e Fiorenzuola 15 Propatia 14 Virtus Verona 13 Per Gollettese 12 Legnago Gianerminio Mantua e Prosesto 11 Daniele sicuramente guardando la classifica Al di là delle squadre Diciamo così di testa Le Alpe sono tutte raccolte In un fazzoletto di punti Molto ristretto Sì Veramente quest'anno La classifica è molto corta Soprattutto nella zona bassa Infatti prevedo un girone di ritorno Veramente scoppiettante lì sotto Ecco siamo debitori del prossimo turno E lo leggiamo subito La quattordicesima giornata vedrà sabato Mantua e Prosesto E domenica alle 14.30 Ferralpi e Salò Virtus Verona Fiorenzuola Piacenza Gianerminio Per Gollettese Lecco Al Minolefe Provercelli Legnago Renate e Propatia Saregno Suttirol Triestina Trento E Padova Juventus André 23 Con questa partita che è stata posticipata al primo dicembre alle ore 16 Dani siamo d'accordo che a questo punto del campionato Non serve soffermarsi sulla classifica come dicevamo tra l'altro anche poc'anzi Ma diciamo che tutto sommato fa sempre piacere essere davanti piuttosto che rincorrere No no certo fa piacere esserla davanti Adesso la forza vera è quella di rimanerci Di essere costanti sulla nostra strada E senza guardare continuamente la classifica Quella la guarderemo in primavera e poi vedremo dove saremo In senso generale alla luce della tua esperienza Che tipo di campionato si sta delineando dal punto di vista tecnico in questo Gironia di questa stagione? No no c'è un campionato molto tecnico Ci sono squadre organizzate Infatti non è semplice vincere con nessuno Vedi i risultati 1-0 Fai fatica comunque a fare gol perché c'è della grossa organizzazione Facciamo un passo indietro e andiamo a domenica scorsa Nel servizio realizzato dalla nostra redazione Vediamo cos'è successo sul terreno del Breda di Sesto San Giovanni Inizia con una vittoria il trittico di trasferte Che caratterizzerà la settimana dell'FC Sud Tirol La squadra di Iavorcic passa con pieno merito allo stadio Breda di Sesto San Giovanni Con un 1-0 che consente ai Biancorossi di mantenere l'imbattibilità e il primato in classifica Parte bene la Pro Sesto che al primo minuto sfiora il gol con Brentan Che manda la sfera a scheggiare il palo alla destra di Poluzzi Picidiale è la replica dell'FC che al decimo conquista un rigore per l'atterramento di Casiraghi Proprio nel vertice destro dell'area Nell'esecuzione si incarica lo stesso Casiraghi che spiazza il portiere E mette dentro il gol che deciderà il match La reazione dei locali sta in un tiro dalla lunga distanza al 36esimo del solito Brentan Che esce di poco Molto più ghiotta l'occasione per Odogvu al 39esimo Che liberato al tiro proprio sul dischetto del rigore manda fuori di pochissimo Alla 43esimo l'episodio che potrebbe cambiare il match In una mischia in area un attaccante della Pro finisce a terra e l'arbitro fischia il rigore Ma evidentemente in questo periodo la porta di Poluzzi è stregata per chiunque E Capogna spara fuori di un niente alla destra del portiere bianco-rosso La cui imbattibilità a fine match salirà a 1085 minuti Il tempo si chiude con una stangata dai 25 metri di tight neutralizzata da Del Frate Meno ricca di episodi la ripresa Al nono ci prova Gattoni da buona posizione ma Poluzzi non si fa sorprendere L'FC amministra il gioco e al decimo da un angolo la sfera finisce a decolle Che spedisce sul fondo in rovesciata Sempre il suo angolo l'ultima occasione per la Pro Sesto al 78esimo Ma la conclusione in mischia di Caverzasi finisce alta E il Suttirol porta a casa tre punti pesantissimi Venivamo da una settimana molto impegnativa Venire a vincere su un campo difficile di sesto è un segno di maturità È un segno di carattere quindi i ragazzi sono stati veramente molto bravi Adesso riposiamo, recuperiamo e pensiamo al recupero con l'Igna Qual è la squadra che ti ha impressionato di quelle incontrate fino ad oggi maggiormente? Una in particolare non te la so dire Abbiamo trovato tutte squadre forti, organizzate A cui fai fatica a far gol Se devo magari trovarne una tecnica Ti dico la Juve, giocatori giovani Magari è quello un po' il loro limite Che però tecnicamente sono molto forti Giovani che arrivano tra l'altro da una selezione molto molto particolare Quindi giovani di altissima qualità e prospetto Che vedremo sicuramente col passare degli anni più in alto Con l'ausilio delle immagini andiamo a vedere i tuoi gol realizzati quest'anno Poi li commentiamo Poi bene Poi bene Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ti prepari? Sì, durante la settimana comunque la rifinitura poi calciamo i rigori, però prepararli è comunque... non è così scontato prepararli. Poi la domenica quando ti trovi lì è tutto diverso. E la scelta come avviene quando ti trovi lì con il peso di battere il rigore? No, quello è proprio un attimo in cui devi scegliere. Poi magari studi un pochino il loro portiere, ma è tutta roba di sensazioni al momento. Il gol che ti piace di più di quest'anno? A quest'anno magari quello su punizione o su azione con l'Albino Leffe. Comunque dai, gol importanti. Fin qui le tue reti. Torniamo alla gara di Legnago. Abbiamo detto che non è facile affrontare un solo secondo tempo. C'è stato un momento, diciamo così, iniziale di difficoltà, poi però è venuto fuori il carattere. E' venuta fuori la determinazione, siete entrati in partita e siete riusciti a condurla in porto nel migliore dei modi. Sì, come ho già detto prima, loro sono partiti forti. Davanti comunque hanno giocatori ottimi che mettono in difficoltà qualsiasi squadra. Purtroppo abbiamo preso gol, però poi con il carattere e la voglia di vincere, di fare tre punti, l'abbiamo ripresa subito. Prima di andare a vedere i riflessi filmati della gara del Sandrini, ci fermiamo per qualche istante. Restate con noi per la seconda parte di Passione Biancorossa. Ben ritrovati a Passione Biancorossa, come annunciato al termine della prima parte. Andiamo a vedere gli highlights della partita del Sandrini di Legnago relativamente al secondo tempo recuperato mercoledì. A Legnago cade, dopo quasi 1.100 minuti, l'imbattibilità della difesa dell'FC su Tirol, ma non quella della squadra, che anzi, grazie al definitivo 2-1 conquistato allo stadio Mario Sandrini, consolida il suo primato in classifica, schizzando a più sei dalle più immediate inseguitrici, Padova e Ferralpisalò. Gara decisamente speciale, quella disputata nel pomeriggio nella bassa veronese, dove si è giocato un solo tempo, il secondo del match, sospeso lo scorso 26 settembre per impraticabilità del campo, sul punteggio di 1-0 per l'FC. Dopo essersi visto respinti due ricorsi, in cui chiedeva la responsabilità oggettiva della società ospitante per la sospensione, l'Alto Adige ha dovuto dunque sudarsi sul campo, i tre punti contro un Legnago partito all'arrembaggio. E già al quinto, la squadra di Colella ha trovato il gol dell'1-1 con Gomez, che da due metri insacca di testa un preciso cross di Ciccone. Cade così, dopo 1.090 minuti, l'imbattibilità di Poluzzi, il quale però salva i suoi al settimo, respingendo un altro colpo di testa di Gomez. A quel punto, mister Javorcic suona la carica ai suoi, che rispondono presente e tornano in vantaggio alla 14esimo, quando Casiraghi batte un corner, spizzata di testa di Rover, con la palla che finisce a Malomo, che da pochi passi mette dentro il gol delle 2-1. Il Legnago schiuma rabbia e si butta a testa bassa alla ricerca del nuovo pareggio. Alla mezz'ora è ancora Poluzzi a dire di no, questa volta a un pericoloso sinistro di Ciccone. Nel finale, per poco non ci scappa il 3-1, con una tripla occasione per Odogvu, imbeccato da Davi, ma fermato dalla difesa locale. Mister Javorcic rende onore al Legnago e si gode questo ennesimo successo. Ma è stato un po' quello che ci aspettavamo, una partita difficile contro un ottimo Legnago, che è comunque partito meglio di noi, ha meritato il pareggio. Poi noi siamo stati molto bravi a portare a casa il risultato e quindi quel vantaggio che avevamo all'inizio è stato decisivo. La quinta vittoria consecutiva fa volare l'FC a quota 33 punti in classifica. E adesso Tait e Soci si apprestano la terza trasferta di questa settimana, che domenica prossima li vedrà impegnati sul campo del Seregno con fischio di inizio alle 14.30. Ci racconti nel dettaglio quando e come nasce il tuo seguito personale, questi straordinari amici che ti seguono e sono quasi dei, anzi, sono dei veri e propri talismani. Sì, no, sono tutti amici con la quale sono cresciuto insieme, tutti del paese, giocavamo insieme all'oratorio e loro mi seguono da sempre. Ogni volta che vengono faccio gol, quindi si può dire che sono un po' i talismani. È un affetto splendido quello che dimostrano nei tuoi confronti. Tu di amici ne hai davvero tanti e allora abbiamo pensato di farti una piccola carambata. La vediamo, va bene. Ciao Dani, questa sono convinto che non te l'aspettavi. È un piacere per me farti questa sorpresa, sai quanto sono legato. Volevo solo dirti di continuare come stai facendo. Tu e i tuoi compagni state facendo una grande stagione. C'è da insistere perché quest'anno deve essere l'anno buono. Anche io sono grande tifoso del Sud Tirol. A te mi lega un affetto particolare. Quindi dico ai tifosi del Sud Tirol, state vicini a questa squadra, tenetevi stretto questo ragazzo perché oltre grandi qualità tecniche è una persona meravigliosa. È difficile trovare dei ragazzi bravi dal punto di vista tecnico e splendidi, eccellenti dal punto di vista umano. Tu sei così, a livello tecnico non hai bisogno che io spieghi ai tifosi del Sud Tirol che Daniele Casiraghi lo conoscono bene. Quindi spero tanto che a fine stagione ci si possa vedere tutti insieme per festeggiare un grande traguardo. Ti abbraccio forte, ti voglio bene e forza su Tirol. Beh direi bello, questo è Massimiliano Francione, Massi un collega giornalista che tra l'altro ha scritto nei giorni scorsi un pezzo veramente bello su di te sul sito La Casa Dici. Prima che un collega, prima che un giornalista, sia per me che per te un amico. Lo ringraziamo di quello che ha fatto. Sì, sì, dopo lo chiamo subito, non me l'aspettavo e grande Massi. Senti Dani, il Tour de Force del Sud Tirol prosegue. Domenica un campo particolarmente difficile come quello di Seregno. Bisognerà nuovamente raccogliere tutte le forze, andarci con il massimo dell'impegno, della determinazione, del carattere e quant'altro. Sì, non abbiamo neanche tanto tempo per prepararla, sappiamo che loro sono una squadra tosta e cercheremo di portare a casa i tre punti come sempre. Calendario intenso, impegni fiti e in questo contesto c'è anche la Coppa Italia, il 24 in quel di termo, tra l'altro non dietro l'angolo. Sì, no, è comunque una competizione che vogliamo portare verso la finale e quindi ci impegneremo anche per preparare quella al meglio. Step by step, partita dopo partita, giornata dopo giornata. Così. Un tuo saluto a tutte le persone che seguono il Sud Tirol e che soprattutto si stanno appassionando in questo particolare momento. No, gli chiedo di starci vicini e di seguirci sempre che ci toglieremo delle belle soddisfazioni insieme. Grazie, grazie a Daniele Casiraghi, grazie a voi. Il decimo numero stagionale di Passione Biancorossa termina qui, l'appuntamento come di consueto è per la prossima settimana alla stessa ora. A tutti voi grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata. Grazie a tutti.